E benvenuti ragazzi, bentornati al mio canale, questo oggi è un altro video e siamo sulla direzione di Italian del 21 Lussemburg scusate, aspetta che io passo un po' la partita allora raga, analizziamo un po' la partita grandissima Italian del 21 una partita di quelle pazzesche raga ha fatto ben 5 gol, quindi è finito cioè sta giocando, ma sta finendo la partita e stanno su 5 a 0 5 a 0 raga una partita impressionante allora, gol di scorcio di rigore di Mauro Padelica in questa partita è la Capitano ok, secondo gol di Moskin di rigore però con azione individuale è tipo, si sono incrociate le gambe con il difensore del Lussemburg e quindi è stato scorcio di rigore terzo gol di terzo gol di 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 non mi ricordo in questo momento il gran segnato comunque, quarto gol di Tumminiello ah no, terzo gol di Sottil mi accenno è bellissima la calzone davvero bellissima quarto gol di Tumminiello che è andrà a salare la cross e la andrà a salare, vabbè salare comunque la cross dal da sinistra verso il centro e Tumminiello e Tumminiello la sacchellete poi se è sanzione però da fuoriare stavolta la cross di nuovo è questo il centro Gianluca Scamacca la stoppa e fa passare tutte le gambe del difensore del Lussemburgo e la sacchellega Gianluca Scamacca gol davvero bellissimo Italia molto 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 ben in difesa in centrocampo come portiere in attacco ha fatto una partita di quelle pazzesche raga di quelle pazzesche vi giuro mai visto una Italia dove non è così bella neanche la nazionale maggiore gioca così bella vuoi farvi capire Nicolato sta facendo una bella una bella spada sta facendo un bel gruppo e chapeau per Nicolato e che dire raga davvero bella Italia Ander 21 lasciate un bel like raga fatemi su questo te lo commento la vostra si schede al canale e ci vediamo con questo video bella ragazzi